Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport07 Allora Chiellini ha rinnovato praticamente ufficialmente In questi giorni credo che usciranno anche i video su Caglio George Credo anche sulle cessioni di Frabotta e Piazza in prestito Comunque dire quantomeno le mie opinioni Quello che penso di questi due diciamo tra virgolette esuberi Comunque giovani Perché ragazzi sembra Piazza è il quinto anno di fila che va in prestito Però in realtà Piazza non si separa mica tanto con Frabotta E Piazza non ha mica 30 anni perché viene da pensare che ha 30 anni ma no Ne ha se non mi sbaglio 26 Mentre Frabotta ne ha 23 Perché alla fine ragazzi è l'under 23 da dove veniva Frabotta Quindi uno può avere anche 22 anni per esempio Per farvi diciamo un esempio Infatti Frabotta quando è venuta libera non aveva né 21 anni né 20 Ne aveva se non ero 22 vabbè Comunque Chiellini ha rinnovato Io su Chiellini ho poco da dire Io ho detto che la Juve è in una situazione Comunque economicamente non facile Quindi anche se Anche se Diciamo Chiellini avesse fatto una stagione non particolarmente buona E comunque ha fatto una stagione buona Dove ha giocato la metà delle partite Non è che sta sempre infortunato ragazzi Chiellini Ha giocato la metà delle partite Che a me male non sembra Ha giocato più partite di Van Dijk e Sergio Ramos Quest'anno Chiellini E probabilmente sono i migliori tre centri al mondo Almeno a seconda mia classifica Di quanto sei forte In generale Non solo l'ultimo anno Ma in generale Quanto uno è forte in questo momento Se prendo in considerazione solamente una partita Diciamo che i tre centrali più forti Sono per me Van Dijk, Sergio Ramos e Chiellini Cioè per me in una divisa a tre con questi tre Non si passa Chiellini che è altalentamente Si può dire in modo altalenante Vabbè È uno che Fa anche delle buone Giocate in avanti Quindi insomma a me piace molto Come giocatore Giorgio Chiellini Intanto sono leggermente raffreddato E vi annuncio Che se per i prossimi minuti sentite qualche grido È semplicemente mia sorella Che non vuole fare Le faccine domestiche E mamma che la rimprovera Quindi se proprio le sentite Tutto è normale Più che altro volevo parlare Anche della Probabile cessione di Demiro È una natalata Poi dipende da quando guardate il video Io lo sto registrando Che è il 3 agosto di mattina Poi dipende Vabbè Mattina Comeriggio sono le due Quindi dipende poi insomma Da quando vedete voi Da quando vedete voi il video ragazzi Allora Allora C'è tanto da dire Perché la Juve Ora Con Chiellini Io ti ripeto Lo avevi praticamente a rinnovare Inutile che vandi via Chiellini Per prendere l'altro giovane Che pagavi 20 milioni Io credo che Anche se fosse rimasto Pirlo Chiellini per me Avrebbe rinnovato tutta la vita Non capisco Perché si parlava di un Chiellini Che non rinnovava Perché comunque Giorgio Chiellini Ha fatto Se non mi sbaglio 25-26 partite L'ultimo anno Andiamo subito a cercarlo Però comunque Sulle 52 partite Giocate dalla Juventus Quest'anno Dovrebbe averne Fatte almeno 26 Chiellini Cioè Se non ricordo male Io ricordo una ventina in generale Ma se non mi sbaglio Anche più di 20 Chiellini Le ha fatte Andiamo subito A controllare Più che altro Da qualche video Che è uscito Chiellini L'ultimo anno Ha fatto 25 presenze Praticamente L'esatta metà Delle partite L'esatta metà Era 26 Però vabbè Non mi ricordo Quando era giocato la Juventus Comunque Era giocate 17 Sette in serie A 4 in Coppa Italia 3 in Champions League E 1 di Supercoppa Italiana Arrivando all'apice Di fare 4 partite di fila In pochi giorni E di questo mi ero anche Di questo mi ero anche Un po' sorpreso Ogni tanto Ha un infortunio muscolare Che comunque Passa via Non ha crociati Cose che lo tengono Fia 2-3 mesi Semplicemente Si infortunia Sempre È vero Ma salta sempre 2-3 partite Ne fa 3 Poi ne salta 2-3 È così E quindi è un giocatore Difficile da gestire Fisicamente Ora perché Va via De Miral ragazzi Perché abbiamo bisogno Di monetizzare Non perché Con Chiellini De Ligt E Bonucci De Miral Non trova spazio Perché anche Bonucci e De Ligt Non sono due Iper presenti Nella difesa bianconera Perché anche Bonucci I suoi infortuni Quest'anno li ha avuti E anche De Ligt La prima parte Della stagione Ha saltato Varie partite Per infortunio Quindi che succede Che serve Oltre a Bonucci Chiellini e De Ligt Che sono i tre top player Diciamo così Serve il quarto centrale Forte Non deve essere Semplicemente il quarto centrale Perché i primi tre Sono fortissimi Quindi il quarto È come la quarta punta Che gioca una volta ogni tanto E no Qui il discorso Cambia totalmente ragazzi Perché come quarto giocatore Deve essere comunque forte Diciamo così De Miral può anche andare bene A me non fa particolarmente impazzire Perché se mi vendi De Miral a 30 Io sono sicuro Che con 15 milioni Mi compri anche dei giocatori Che sono più forti Di De Miral Si parla di Milenkovic 20 milioni Ora andiamo a cercare Quanto vale Milenkovic Su Transfermarkt Ma Milenkovic Due anni fa De Miral ne valeva 50 Poi è andato avanti Con l'età È rimasto nella Fiorentina Che comunque È una Intanto no Si è buggata la tastiera Grande Si è buggata Google Ragazzi Quindi non possiamo cercare Nicola Milenkovic No forse sì Vediamo Oh me lo dà Milenkovic Ok Me lo dà Attenzione ragazzi Incredibile Mi ha dato Milenkovic Non è più un giovincello Di 20 anni Ora di anni Ne ha 23 Se non erro Andiamo a vedere Sì 23 anni Milenkovic Quindi insomma È vero che l'Atalanta Ha bisogno di centrali Però Ne ha già preso uno Di cui ne parliamo dopo Quindi cosa dico Che se tu hai Quattro dimensioni centrali Mandando via Rugani Il quarto deve essere forte Quindi se tu vai a prendere Un quarto centrale forte Al posto di De Miral Mi vai a prendere Milenkovic Che ha la stessa età di De Miral Lo paghi di meno Ed è pure più forte Secondo il mio punto di vista Invece se andiamo a parlare Di tenere cinque centrali Oltre a Chiellini Delict e Bonucci Non per forza Devono essere due forti Perché possono anche essere due Così e così Insomma Anche se io rimango dell'idea Di avere solamente quattro centrali Però di cui Tutti e quattro forti Di cui uno un po' meno degli altri In questo caso Milenkovic ragazzi Perché avresti Chiellini e Milenkovic Che possono fare La dimensione centrale di sinistra E Bonucci e Delict Che possono fare La dimensione centrale di destra Anche se E Bonucci e Delict Di solito Secondo me Giocheranno insieme Un'alternativa Molto valida Sarebbe quella di Se tu hai paura Che si importano tutti Perché solo con quattro centrali Tu Chiellini e Allegri Si è sempre trovato meglio con cinque Essendo che lui Spesso ha nemmeno usato due Però poi quando si difende Mette un difensore in più Passa a tre ragazzi Allegri è uno che esige spesso I quinto centrali E quindi io come quinto centrale Avevo pensato O di tenere Rugani Ma così ti fai circa Cinque milioni in meno Perché se Rugani non va a vendere Cinque sei milioni Ti danno Oppure lo vendi presto con diritto di riscatto Oppure una mia idea personalissima Era quella di tenere Dragusin Come quinto difensore centrale E di fargli fare magari Dieci, quindici partite Durante l'anno A me Garberebbe veramente molto l'idea E quindi Questo è ragazzi Perché se hai cinque Difensori centrali Potevi prendere una dimensione centrale Non come Milankovic Comunque giovane Promettente Ma sui dieci milioni di euro Che per me ha preso la tanta Perché questo difensore centrale Che l'ha messo anche Nel mercato che farei Dalla Juventus Era Lovato Insomma la prima esperienza In Serie A Solo i 19-20 anni Comunque era giovanissimo Lovato Aveva solo 19-20 anni Eppure ha fatto una stagione Veramente ottima Al Verona Ha fatto se non mi sbaglio 25 presenze Non le ha giocate tutte Non è arrivata a 30 partite Ma 24-25 presenze Le ha fatte Comunque giovanissimo Te lo facevano pagare Dieci milioni Per me te lo portavi a casa Te lo facevi crescere Perché è un difensore centrale Che può giocare sia a 3 che a 4 E può anche adattarsi A fare il terzino E per me sarebbe stato ottimo Tenere 5 centrali Con Chiellini e Bonucci Delicto E poi i due un po' meno forti Che sarebbero O Lovato e Dragusin O Lovato e Rugani Lovato si era preso L'Atalanta addirittura Per 7 milioni di euro Quindi pensate un po' ragazzi Quanto siamo stati Scemi Secondo la mia Pugiamolo del mio punto di vista E quindi È andata così Quindi questo è quello Che penso io Io sinceramente Farei una difesa a 4 Cioè una difesa Con 4 difensori centrali Chiellini e Bonucci Delicto Più Milenkovic E come quinto Se si vanno a infortunare Troppi giocatori Ti tieni Dragusin Perché ad Allegri Piace tenersi 5 difensori centrali Se invece Dragusin A te non ti va bene Allora Ti tieni Rugani Come quinto Per me questo è Perché se poi Non vai a prendere Milenkovic Allora ti tieni Chiellini Bonucci delicto Rugani e Dragusin Beh Iniziamo a non ragionarci più Se invece mi vendi Rugani Mi vendi De Miral Allora ti tieni Chiellini De Monucci delict E In questo modo Via Rugani Vedo De Miral Ti tieni Milenkovic E Dragusin Che sarebbe per me La soluzione ideale Anche perché Sia Milenkovic Che Dragusin Possono adattarsi A fare anche Il terzino Ragazzi O in un'eventuale Difesa a tre Perché ci hanno già giocato Molte volte Con Pirlo Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Se ti è piaciuto il video Ti mi do lasciare un mi piace Se vuoi controllare un dislike Commenti Se siete d'accordo Se siete d'accordo con me Se non l'hai ancora avuto Iscriviti al canale In descrizione Il link Per sicuramente su Instagram Da Monisportzore 7 È tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao